Il mio nome è Peter Kelleman, lavoro come consultorio di frutti e consigliere in Ungari. Siamo principalmente coinvolto in consigliere di frutti di frutti, inoltre cerri e apricotti. Abbiamo iniziato a usare prodotti Stoller due anni fa, con alcune applicazioni specifici, inoltre applicazioni per aumentare il frutti di frutti, per aumentare il frutti di frutti in apricotti. E inoltre cerchiamo di continuamente aumentare i nostri risultati, o di migliorare la qualità frutti, per migliorare la firmità con applicazioni per aumentare il contenuto del frutti di calcium. Bisogna ora abbiamo risultati molto positivi nei nostri risultati cresciti, e anche insieme con i risultati che stiamo lavorando. Quindi, in futuro, avremo a usare più e più di questi prodotti, e speriamo di ottenere migliori risultati, insieme con Stoller. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!